Un sogno che diventa realtà per Armando Pontone. Il pilota Ciociaro è stato ufficialmente convocato per gareggiare nella tappa italiana del mondiale Superbike in programma dall'11 al 13 giugno a Misano. Il pilota Armando Pontone del team Bike Motor in sede alla sua fedele Yamaha R6 gareggerà nella categoria Supersport 600. È una grandissima emozione partecipare come Worldcard nel Gran Premio Italiano di Misano Adriatico del mondiale Supersport. È veramente un'emozione indescrivibile. Potrai confrontarti con i piloti di tutto il mondo? Sì, sì, posso confrontarmi con i piloti di tutto il mondo. Infatti settimana scorsa c'è stato il Gran Premio di Spagna e ho subito studiato gli avversari. Atleticamente mi sto allenando con il mio preparatore atletico Giorgio Bonfigli. Stiamo facendo un grandissimo lavoro e poi dopo con VisioMed stiamo curando ogni minimo dettaglio del mio fisico. Chi ti senti di ringraziare per questo traguardo? Allora, volevo ringraziare il team Bike & Motor, la Motosport Italia. Un grandissimo ringraziamento lo voglio fare a tutto lo staff di Digital App che da quest'anno curano la mia immagine sportiva. Però un ringraziamento d'Armando Pontone io lo farei a te stesso? Sì, io mi lascio sempre per ultimo perché comunque non si arriva ad un campionato del mondo solo con le proprie forze. Cioè nel senso il talento, io posso metterci il talento e impegnarmi negli allenamenti. Ma dopo dietro c'è tutto un lavoro di persone speciali. Vorrei nominare Salvatore Polselli che anche lui mi è stato molto vicino in questo periodo e la mia ragazza è comunque tutti i giorni al mio fianco e mi ha dato sempre la forza. Di andare avanti. E allora in bocca al lupo Armando. Crepi lupo e invito a tutti quanti a seguire il Gran Premio di Misano che si terrà dal 10 al 13 giugno. Grazie. 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 Grazie.